Qui a Coverciano in attesa di una squadra, quali prospettive ci sono per te? Tu sei rimasto coinvolto nel fallimento del Siena, ti ritrovi in questa situazione soprattutto per come è andato a finire il club bianconeri, ti aspettavi questa fine? Sicuramente c'erano delle problematiche, dei problemi, però ci erano arrivate rassicurazioni da più parti che comunque la situazione si potesse risolvere e si dovesse risolvere, quindi io personalmente mi sono trovato un po' spiazzato viste le premesse, trovarsi dal doversi iscrivere fino all'ultimo minuto alla mancata iscrizione e quindi al trovarsi libero mi sono trovato un po' a livello personale spiazzato poi c'è dispiacere, c'è rammarico, c'è rabbia, ci sono tanti sentimenti in questo momento che sono in ogni giocatore però penso che questo ritiro a me personalmente serva tanto perché essersi trovati così all'improvviso senza squadra io che avevo ancora il contratto lì è una brutta botta da questo punto di vista però fortunatamente ci si allena, c'è un personale preparato, ci sono tanti giocatori bravi per cui c'è voglia di migliorarsi e voglia di confrontarsi fra tutti Tornato a Siena le responsabilità a tuo parere sono esclusivamente della proprietà della famiglia Mezzaroma? Io personalmente non lo voglio neanche sapere di chi sono le responsabilità perché sicuramente non saranno da una sola parte le responsabilità la verità è che il Siena è sparito dal panorama calcistico importante quindi oggi andare a capire di chi sono le responsabilità a me personalmente non mi viene nulla in tasca e non allevia questa rabbia che ho perché comunque sono andato a Genaio a Siena ho subito un brutto infortunio praticamente subito le premesse della mia firma erano che comunque la realtà aveva delle problematiche importanti che erano in via di risoluzione e che sarebbero state risolte quindi niente, cosa dire, non c'è tanto da aggiungere Quindi dal punto di vista del morale adesso come si riparte, com'è che si guarda avanti con fiducia? Sicuramente c'è fiducia, uno fa sempre leva su quelle che sono le proprie capacità e la propria voglia di rivincita specie dopo un'annata, 4-5 mesi sfortunati e niente, speriamo innanzitutto di raggiungere una condizione atletica importante che è il motivo per cui sono qui e bisogna dire grazie a tutto lo staff che ci viene quotidianamente messo a disposizione sia dei tecnici che dei preparatori per cui è troppo importante a oggi provare a trovare una condizione fisica accettabile perché per me è che voglio continuare a fare il giocatore a livelli importanti, spero è importante comunque avere una base atletica e fisica adeguata Fino a questo momento ti sono arrivati dei segnali da parte di alcuni club qualche interessamento più o meno importante oppure saresti anche magari disposto a prendere in considerazione un'ipotesi all'estero? Ma io non scarto nessuna ipotesi a priori sarebbe stupido farlo e sinceramente alcune ipotesi non me ne sono neanche posto il problema perché ad oggi non sono arrivate richieste io in passato ho avuto delle opportunità all'estero, le ho valutate poi non si sono concretizzate erano delle opportunità importanti di crescita però per ragioni diverse poi non è arrivato l'auspicato matrimonio a oggi, ripeto, non escludo nulla io sono aperto a ogni tipo di confronto poi è normale che io personalmente a oggi cerco di lavorare comunque sogni anche la Serie A eventualmente? Sognare non costa nulla poi bisogna sempre vedere le opportunità a cui si va incontro uno può sognare pure di andare in nazionale non costa niente però devi vedere quello che la realtà ti prospetta e quelle che sono le opportunità che hai a oggi io sono qui a fare il ritiro a Coverciano e la mia mente e la mia testa sono concentrati solo ed esclusivamente a lavorare qui poi quello che verrà e quelle che saranno le opportunità che si presenteranno le voluterò in maniera molto serena a